I comuni puntano i riflettori sulla sicurezza stradale nelle scuole con apposite lezioni di educazione stradale e lungo le principali arterie cittadine con l'installazione di inibitori di velocità. È il caso di Marostica che nel nuovo piano di mobilità ha avviato il posizionamento di apparecchi mirati a far desistere il guidatore dallo schiacciare a tavoletta l'acceleratore soprattutto vicino ai centri abitati. E se in un primo momento i residenti non erano piaciuti i veloquei collocati in diversi punti nevralgici, beh dopo un monitoraggio i risultati ci sono stati. Abbiamo avuto una riduzione molto importante delle velocità medie sulle strade che abbiamo sottoposto a monitoraggio e quindi possiamo dire che è un successo. Abbiamo deciso di utilizzare anche questi strumenti proprio finalizzati alla riduzione della velocità. È stata una percentuale decisamente elevata? Circa l'80% di riduzione delle infrazioni rispetto alla stessa strada senza il veloquei. La stessa velocità, si parla di un 20% in meno di velocità, giusto? Esattamente, quindi possiamo dire che siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti. Legato ovviamente alla formazione, formazione nelle scuole ma formazione anche dei cittadini. Esattamente, il progetto prevede anche questo aspetto formativo che è importantissimo perché bisogna, diciamo, formare i nostri concittadini più giovani a un maggiore rispetto anche delle regole stradali e soprattutto alla consapevolezza delle conseguenze che possono derivare da un non corretto comportamento.